ciao bambini oggi mettiamoci il caschetto e visitiamo il cantiere siete pronti? la ruspa per scavare e smuovere la terra la betoniera per mescolare il cemento l'autogru per sollevare gli oggetti pesanti il camion ribaltabile per scaricare la terra l'escavatore che col suo braccio snodato riesce a smuovere anche le pietre lo schiaccia sassi per compattare il terreno la trivella che con la sua punta può perforare ovunque il bulldozer che con la sua forza può spostare ogni cosa il muletto per sollevare e spostare i materiali il cuore c'è un'escavante il cuore il cuore il cuore Il bulldozer L'escavatore Lo schiaccio a sassi Ciao bambini, se vi è piaciuto il nostro video mettete mi piace e iscrivetevi al nostro canale Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima!